Nel video sul quoziente intellettivo abbiamo visto nel dettaglio quali sono gli indici che vengono analizzati per poi arrivare a calcolare il quoziente intellettivo in particolar modo per l'indice di comprensione verbale abbiamo detto che cos'è e come si compone ma come posso intervenire se voglio migliorare questo indice di comprensione verbale? Lo vedremo insieme in questo video Ciao sono Paola Saba e sono una delle fondatrici del progetto Viva la dislessia il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia prima di entrare nell'argomento di oggi ti ricordo che puoi trovarci anche su Facebook nel gruppo Viva la dislessia con il punto esclamativo dove potrai trovare ogni giorno consigli utili per te e per tuo figlio All'interno delle misurazioni che vengono effettuate per stabilire il quoziente intellettivo ci siamo soffermati su quello che è l'indice di comprensione verbale ma anche questo indice esattamente come tutti gli altri che vengono analizzati ha delle possibilità di lavoro, di miglioramento, si può in qualche modo potenziare abbiamo detto che la misurazione della comprensione verbale va a lavorare su una parte dell'intelligenza che è in qualche modo cristallizzata o che comunque dipende soprattutto dall'ambiente il fatto che dipenda dall'ambiente per noi è un'ottima cosa perché possiamo in qualità di genitori o di professionisti lavorare proprio sull'ambiente per andare a potenziare questo elemento lo possiamo fare in tantissimi modi fin da quando i bambini sono piccoli ma anche mentre crescono quindi nella fase preadolescenziale, adolescenziale e anche perché noi in età adulta primi tra tutti su di noi ci mancherebbe quindi la parte verbale soprattutto questa parte che è legata a tutte quelle abilità che non sono strettamente collegate alla lettura vera e propria del testo si possono potenziare in tantissimi modi la cosa importante è che tutte le esperienze di apprendimento siano come sempre giocose, divertenti e in qualche modo stimolo di riflessione e ragionamento nel lavoro sull'indice di comprensione verbale abbiamo visto che uno dei primi subtest che vengono utilizzati è quello delle somiglianze quindi si va a cercare tra vari oggetti o concetti quali sono gli elementi comuni che cosa hanno di simile tra di loro ecco per andare a potenziare questa abilità l'abilità di trovare somiglianze e perché no anche differenze si possono fare tantissimi giochi, tantissime associazioni rispetto a elementi che si vedono anche nell'ambiente quotidiano quindi che cosa noti, fare domande del tipo che cosa vedi di simile, che cosa vedi di diverso e questo diventa ancora più interessante se lo associamo al secondo subtest, quello del vocabolario andare a lavorare e lavorare tantissimo sempre il più possibile sul lessico permette di dare non soltanto un potenziamento importante per quanto riguarda questo indice ma un bagaglio e delle solide fondamenta all'apprendimento in tutti i sensi per tutti i ragazzi indipendentemente da quello che può essere il risultato nel punteggio e nella misurazione di questo subtest perché è così importante lavorare sul lessico? perché ci permette di avere sempre qualcosa su cui ci possiamo muovere anche laddove siamo magari più in difficoltà, se dobbiamo dare un esame, una verifica, un'interrogazione importante avere un lessico consistente sicuramente ci aiuterà sempre in qualsiasi situazione un po' più sfidante o un pochino più difficile allora dicevamo somiglianze e vocabolario insieme, che cosa noti tra questi due elementi? che cosa hanno insieme? perché cosa invece differiscono? tu come li chiameresti? ma sei sicuro che questo termine significhi esattamente lo stesso? quindi sono effettivamente dei sinonimi o potrebbero essere un pochino diversi e qual è il contrario per esempio di questa determinata parola? ecco per far questo non esiste modo migliore che utilizzare il gioco di viva la dislessia, il gioco dei sinonimi e dei contrari con questo gioco puoi andare a lavorare specificatamente su quelle che sono le conoscenze, le abilità legate al lessico sia per quello che riguarda i sinonimi delle parole italiane, anche sinonimi e parole che non vengono utilizzate spesso perché magari non fanno più parte del lessico utilizzato quotidianamente che ahimè si è molto ridotto nel corso degli anni ma che ci permettono quando poi andremo a leggere, a cercare di capire un testo, di avere un substrato molto più forte e naturalmente anche tutto quello che riguarda gli intrusi, quindi quelle parole che hanno dei significati ambigui ma che in realtà identificano qualcosa di diverso e via dicendo nel gioco viva la dislessia tra l'altro si può lavorare molto anche sui significati doppi di alcune parole e sul loro utilizzo in contesti diversi questo ci spinge anche al subtest comprensione quindi come vado a lavorare sulla comprensione per quanto riguarda la parte verbale e naturalmente posso aiutare il mio figlio a verbalizzare le sue conoscenze di quelle che sono specifiche situazioni sociali e principi generali in determinate situazioni anche banalmente se ci sono situazioni di conflitto, di comunità, scuola, cosa è successo, avete letigato, ma chi è stato, cosa ha fatto provare a chiedere che cosa ne pensi, tu che cosa avresti fatto, sei d'accordo con quello che è successo ti saresti comportato in modo diverso e come mai, che cosa provi in questo determinato momento quindi anche tutta la parte della verbalizzazione legata all'emotività quindi alla parte emotiva dei nostri ragazzi gli aiuta a lavorare in maniera più approfondita sulla parte della comprensione su questo subtest ovviamente, non serve dirlo per quello che riguarda il subtest, informazione, conoscenze legate ad argomenti generali tanto più fate dono ai vostri figli di quella che è la vostra conoscenza che naturalmente nasce ed è giusto così anche dai vostri interessi tanto più li arricchirete nel loro futuro e naturalmente state molto all'occhio su quelli che sono i loro interessi per poter lavorare su conoscenze nuove, bisogna sempre partire su quello che è il talento dei nostri ragazzi quindi quelli che sono i loro interessi e poi spingerli a un livello sempre più alto rispetto anche a quello che in qualche modo li coinvolge e gli piace naturalmente per quello che riguarda il quinto subtesto facoltativo di cui avevamo già parlato nell'altro video, ragionamento con parole qua tutto il mondo degli indovinelli, degli enigmi tutto quello che ci porta anche al pensiero laterale, perché no? ci permette di entrare in tutto quello che sono gli indizi esattamente come ragionamento con parole che ci possono portare a identificare un concetto sottostante insomma i nostri tempi e in altri tempi c'erano quegli indovinelli qual è quell'animale che è? ecco, una cosa del genere con livelli di complessità magari di attualità anche un pochino diversi rispetto a questo però tutto il mondo del provo a indovinare, provo a capire ma cosa potrebbe essere, potrebbe essere così o potrebbe essere in un modo diverso ci apre la mente, ci apre naturalmente a quella parte che è legata alla comprensione più o meno laterale di quello che sta succedendo e ci permette di potenziare un indice come l'indice di comprensione verbale che ricordati sempre non è che è una fotografia semplice di quelle che sono in un determinato momento le caratteristiche di tuo figlio ma sicuramente non è un bollino che rimane e marchia a vita quindi tutti gli elementi che vengono misurati attraverso il cui sono elementi che in qualche modo ci danno un'idea di una situazione specifica in un determinato momento ma ciò non vuol dire che non ci si possa lavorare, che non si possa potenziare e che non si possa fare tanto prima, durante e dopo spero di esserti stata utile ti ricordo di iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto e di seguirci anche su Facebook nel nostro gruppo Viva la dislessia con il punto esclamativo e sul nostro sito www.vvaladislessia.com